E non rimane altro che gettare l'illusione nel cassetto del passato, entrando in questa nuova dimensione, dove sarà e cosa accadrà. Adesso è tutto chiaro nell'universo scuro, dove il tempo non esiste più. E la forma del corpo sparisce, la mente svanisce, rimane invisibile. E corro velocissimo, per poi tuffarmi nello spazio lontanissimo. In una nuova realtà. Sono state davvero tanti, è difficilissimo accontentare tutti, però grazie mille dell'affetto e di averci seguito. Ma non vi preoccupate, perché Emanuele lo riprenderemo sicuramente. Più là per il nuovo progetto discografico lo riavremo di nuovo qui ospite con noi. Ma adesso andiamo avanti col programma. È arrivato il momento della classifica dei film più visti in Italia questa settimana. Al decimo posto il cartone Dreamworks Epic. Al nono posto il Grande Gatsby di Ben Zlurman con Leonardo DiCaprio. All'ottavo posto una comedia italiana Niente può fermarci con Lucia Uccone. Al settimo posto è tornato in sala il classico Disney Monster & Co. Al sesto posto l'horror con la vincitrice premio Oscar Jennifer Lawrence e Itz. Al quinto posto Fast and Furious 6. Al quarto il capolavoro di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza. Al terzo posto Una notte da leoni 3, il terzo capitolo della saga comica. Al secondo posto il film con Willie Smith e il figlio, After Art. E al primo posto Star Trek Into the Darkness, un nuovo episodio della famosissima saga fantascientifica. Ma adesso andiamo avanti con la musica. Cioè ascoltiamo un cantautore americano molto bravo. Anzi no, mi dicono che ascoltiamo un classico dell'estate del 1998. Scusate la gaff. Life di Desiree. Life di Desiree. Life di Desiree. Life di Desiree. I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Fungi chungting, I don't care. Life, oh life. Oh, life Oh, life Do, 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 do Life, oh, life Oh, life Oh, life Do, 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 life Do, 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 do Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo la mia gaff consueta e puntata Andiamo avanti con la musica E adesso ci ascoltiamo il cantautore Che vi ho anticipato prima Si chiama Terry McDermott E questo è Pictures Grazie a tutti 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 Pietrascritta è una sala ricevimenti Moderna, capace di ospitare Fino a 160 persone Per matrimoni da sogno, battesimi, comunioni, lauree, compleanni Sì ma Pietrascritta è anche il ristorante con menu alla carta Famoso per le sue specialità, famoso per le sue specialità a base di pesce Pietrascritta, dei fratelli Perta, da 30 anni, con successo nella ristorazione San Nicandro Garganico, strada per Torre Miletto, km 1, info 0882 49 1225 www.pietrascritta.it Rieccoci studio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti